ciao a tutte ragazze benvenuti a questo mio nuovo video scusate per diciamo l'abbigliamento ma qua praticamente ci sono meno due gradi e sta nevicando quindi proprio fa freddo come avrete letto dal titolo questo è un video all ovviamente ragazze allora io sono i stop di acquisti ma diciamo due buone ragioni per questi due ordini in due posti diversi allora il primo l'ho fatto da mente rosmarino perché volevo provare il nuovo fondotinta star system di neve cosmetics vedrete questo video molto in là rispetto a quando ho fatto questi acquisti perché comunque ho in progetto prima di mandar fuori altri video io ho comprato il fondotinta star system praticamente il giorno dopo che è uscito c'è proprio subito e l'ho comprato da mente rosmarino è la seconda volta che acquisto ho comprato qualcosina ma principalmente trucchi non ho comprato beauty ho pagato le spese di spedizione di 12 euro poi per il resto ho speso comunque in totale sui 85 pound e lì quindi l'ordine da mente rosmarino è partito appunto perché volevo provare questo decantatissimo star system è una pagina poi mi arriva un'email un po di giorni dopo da parte di hollande barrett il 60 per cento di sconto su organi e dottor organic ho detto il 60 per cento di sconto già che qua costa poco dottor organic perché non ci sono assolutamente i prezzi che sono riportati in alcuni siti online o in Italia ho detto le cose costeranno veramente due pound sono andata a vedere mi sono anche comprato un siero a soltanto 4 pound siero dottor organic quindi ho detto mi dispiace ma devo per forza fare quest'ordine perché i prodotti dottor organic sono davvero buoni tra l'altro ho preso sia qualcosina per me che mi incuriosiva ma anche cose per le mie amiche per delle amiche da poi spedire e vi faccio vedere tutto allora ci sono anche degli acquistini che ho fatto dal tutto un euro e da lidl che vi faccio vedere perché sono davvero pochissime cose allora da lidl un po di tempo fa ho preso lo tre profumini che ho appunto trovato a 3 e 99 sono questi tre profumini allora aura e poi ho preso il de amor il aura unique e poi aura de splendor i packaging sono molto carini quindi guardate qua i lati con diverse appunto fantasie e li ho presi appunto perché mi sapevo io sono una consumatrice assurda di profumi questi qua ce ne erano di cinque io ne ho presi tre su cinque ho dorato io le ho dorati tutti perché c'erano appunto dei le boccette lì per odorarle sono da 100 ml e appunto ero davvero tanto curiosa e li ho voluti prendere perché hanno quei profumi dolci e femminili che mi piacciono tanto e quindi li ho presi poi dal tutto un euro ho preso questi pad quadrati della johnson's baby quindi sono proprio dei dischetti quadrati volevo provarli perché li ho provati sempre ovali grandi o rotondi piccoli ma mai quadrati quindi costavano un pound e li ho presi come anche costavano poco queste salviette della ops 120 salviette soltanto appunto un pound queste qua sono con avere camomilla però appunto dorando le hanno una fraganza molto 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 delicata che sa di buono quindi queste qua ovviamente non mi ci strucco anche se sono delicate non ci sono non c'è alcol però per il resto appunto l'inci è è quel che ve lo faccio vedere questo è l'inci e niente le ho prese per struccarmi gli swatch dalle mani per metterli in postazione quindi questi qua bene adesso cominciamo con questo che è il pacchetto di menta e rosmarino allora questo pacchetto devo dire che mi è arrivato in quattro cinque giorni di solito ci mettono di meno però in in quel periodo in italia in quei giorni vi era bruttissimo tempo mi sembra che abbia nevicato anche a roma quindi magari le spedizioni erano un pochettino più lente comunque mi è arrivato alla fine non è un problema cosa ho preso vi dicevo che principalmente ho fatto l'ordine per questo prodotto qua il fondotinta star system dell'appunto neve cosmetics io l'ho preso nella colorazione light warm questa colorazione qua sotto tono giallo la cosa io l'ho comprato 12 99 è questo qua ragazze è il prodotto è la quantità di prodotto io l'ho provato una volta vi ho fatto anche il video quindi lo pubblicherò subito ce lo pubblicherò a seguire di questo praticamente ci sono quattro prodotto 4 grammi scusate si 4 ml di prodotto per 11 per 12 euro e 99 che tra l'altro prezzo in offerta perché costa 14 onestamente per quanto il fondotinta possa essere buono però trovo che comunque nonostante allora è una formula che comunque lo stick non è duro cioè si va il prodotto si va a stendere bene solo che ho notato che in alcune zone magari vicino a dei brufoletti secchi per me soprattutto qua nel mento mi andava un po a evidenziare le pellicine quindi alla fine questo fondotinta la prima impressione buona buona coprenza però ecco vedevo io da vicino che mi andava a evidenziare un po le pellicine sotto c'è la spugnetta in dotazione abbastanza morbidina che appunto serve per fare dei ritocchi magari durante la giornata vi lascio comunque per la stesura e tutto al video prossimo che pubblicherò in merito a questo fondotinta poi cosa ho fatto ovviamente visto che ho praticamente finito la mia bb cream della vita l'ho ricomprata ho ricomprato per la terza volta la bb cream della puro bio sublime nella colorazione 02 questa bb cream è la bb cream della mia vita spero che non la riformuleranno mai non la toglieranno mai secondo me è fantastica per essere una bb cream a una coprenza assurda a una lunga comunque durata io torno alla vola ovviamente io la fisso con una cipi avendo tra l'altro il viso a tendenza grassa però io vado a ritrovare la sera vado a struccare questa bb cream dal mio viso è davvero davvero ottima ma ve l'ho decantata in tante lingue quindi l'ho ricomprata per la terza volta poi come altro prodotto di makeup ho voluto ne ho presi due ho preso la famosa cipria di neve cosmetics volevo provare una cipria ho detto tanto che compro il fondotinta nuovo provo qualcosa anche di vecchio fra virgolette e ho preso la flat perfection velvet matte metterà a fuoco ecco qua questa quando l'ho ancora aperta mentre ho aperto e ho provato oggi cioè questo è il mio trucco ovviamente non ho messo neanche correttore ragazze volevo proprio avere soltanto un colorito uniforme e questo prodotto mi ha davvero sorpreso con il brand io ho provato ho provato soltanto un prodotto che mi ha deluso però ho detto devo no due prodotti che mi hanno deluso addirittura provare la bb cream di questo marchio e fu terribile parlo del marchio bene cost io ho comprato questo qua che io avevo visto nella foto fosse un una cipria compatta invece poi alla fine mi è arrivata appunto questa con questa formulazione è come potete vedere in polvere e io ho preso il colore sand ragazze io sto utilizzando questo prodotto con la spugnettina che c'è in dotazione e vado appunto a prelevare un po di prodotto e poi lo vado appunto a passare su tutto il viso ragazze io adesso non ho assolutamente correttore infatti vedete qua l'imperfezione ma mi ha anche da lontano uniformato tutto il colorito e tra l'altro questo fondotinta l'ho messo ieri che sono state in palestra e quindi ovviamente ma si sa si suda eccetera eccetera io l'ho fatto io ho fatto anche il bagno tour con la sauna l'idromassaggio ieri una durata che io comunque mi avevo il viso sia un po stressato ovviamente dal calore e tutto però uniforme è buonissimo mi è costato 5 euro e 70 quindi davvero un ottimo prodotto che adesso mi sta dando una bella impressione o comunque il viso liscio non escludo già se continua così di comprarlo ottimo davvero e poi per quanto riguarda il make up allora una e due per quanto riguarda il make up ragazze ho comprato anche due accessori ho comprato la beauty blender della puro bio questa qua nera credo mi sia costata sui 7 8 euro eccola qua non sono mai abbastanza le beauty blender ragazze eccola qui ovviamente abbastanza duretta ma deve essere bagnata e tutto e poi finalmente ragazze perché volevo questo prodotto da una vita e mezza però ero sempre senata dal prezzo dicevo ma che avrà di così tanto particolare questo pennello è il pennello 03 di puro bio il pennello con le setole piatte per andare a passare i prodotti sia in polvere che liquidi finalmente ragazze è mio costato 15 euro questo qua appunto sono le setole piatte e molto fitte fatta appunto per andare a passare i prodotti liquidi ma anche in polvere perché perché andando a picchiettare non a trascinare o fare movimenti circolari sia una maggiore coprenza e questo è il tipo di pennello che utilizzo per passare la bb cream perché passandola con le mani da un effetto legger che va uniformare passandolo e con precisione con il pennello si va a dare appunto un effetto di tanta tanta coprenza però era un prodotto che veramente volevo da una vita potevo aspettare gli sconti ma ragazze visto che mi trovavo l'ho preso perché non acquisterò sicuro fino a maggio dico maggio perché a fine maggio dovrei scendere in italia per una settimana e quindi praticamente voglio distruggere e spendere tutto mentre sono in italia e niente poi ho preso soltanto qualche prodottino beauty cioè allora ho preso questo boccione da 500 ml di sapone per le mani alla rosa e alla pesca di organic shop questo l'ho preso 4 euro e 50 perché l'ho preso perché comunque i saponi mani servono sempre tra l'altro questo racchiude due profumi che spero si sentano che sono i miei preferiti cioè quello lì alla rosa e quella la pesca che sono tra l'altro la pesca il mio frutto preferito quindi adoro spero che si senta e l'ho voluto comprare anche perché 4 e 50 ovviamente per un prodotto biologico da 500 ml comunque non mi sembra tantissimo poi ho preso un idrolato della saponaria e ho preso l'idrolato di timo ovviamente il timo antibatterico disinfettante davvero anche lenitivo letto quindi questo qua 3 l'ho preso a 3 ore 20 perché era in offerta di solito sono a 350 poi ho preso una mini taglia diciamo da da 12.5 ml ed è praticamente una maschera della catia all'argilla rosa e aloe vera perché perché volevo provare un qualcosa di purificante ma visto che la mia pelle adesso è diventata molto reattiva voglio qualcosa appunto che si mi purifichi ma sia anche delicato è l'argilla verde ragazze non è quella adatta in questo momento alla mia pelle quindi per non prendere il tubetto che comunque non costava tantissimo ma volevo vedere come mi trovavo con questo tipo di argilla ho preso soltanto questa che mi è costata un euro e qualcosa ecco niente di che poi ho preso due saponette di questo marchio che mi ha incuriosito tantissimo sto parlando del marchio florinda sapone vegetale della linea coccole di profumo ragazze queste saponette quando ho aperto il pacco mi hanno inondato tipo di profumo ho scelto questa all'albicocca e già da qui si sente tantissimo l'albicocca sono 100 grammi di saponetta ed è costata 3 euro e 20 a prezzo pieno buonissima ce n'erano tra l'altro di tantissime fragranze che magari se mi trovo bene compro io queste le utilizzate perché una volta ogni tanto mi piace anche utilizzare il sapone e poi anche per lavare i pennelli in modo più delicato e poi ho preso questa qua alla vaniglia anche qua si sente più che di vaniglia si sente un profumo proprio di di pulito di sì di pulito però appunto le ho volute prendere poi ho preso due stick per le labbra sto facendo fuori un sacco di lucidalacce lucidalabbra burro cacao scusate perché li porto a lavoro li tengo sulla scrivania e ogni cinque minuti mi è presa l'abitudine di andarmi a mettere il burro cacao quindi li consumo e ho preso un famosissimo a dolci labbra che ancora non li avevo provati e ho preso la dolci labbra appunto al chemilla nocciotella quindi non vedo l'ora e poi ho preso questo qua mi è costato due due euro una cosa del genere in offerta e poi ho preso quest'altro che era il 5 per cento di sconto che però è costato quattro pound e quattro euro e qualcosa e parlo del chilled lip balm della puro bio questo qua che dovrebbe appunto avere un effetto un po appunto cioè dovrebbe essere al peperoncino sì peperoncino e menta quindi un effetto abbastanza strong sulle labbra ero curiosa l'ho voluto prendere vi faccio vedere l'ultima cosa che ho preso e poi vi faccio vedere i campioncini ho preso questa candelina in mini taglia da 53 grammi o 52 52 grammi della heart and home ho sentito parlare di questo brand di candele sia da simona del canale beauty fashion che anche da un'altra ragazza che a volte seguo che si chiama irene allora e cosa dire ho visto queste candele perché sono rivendute qua perché sono candele con appunto buoninci e tra l'altro hanno la cera di soia io ho preso costicchiano queste candele io questa qua l'ho presa 3 euro quasi per 52 grammi che è il formato più piccolino di quest'altro formato ci sono c'erano un altro po di gusti però appunto ho voluto prendere questo che cupcake al caramello infatti questo questa candela ragazze io non vedevo l'ora di fare il video per poi accenderla eccola qua appunto begiolina ragazze ha un profumo di di caramello avvolgente ma un po dolce quasi mischiato con la panna mi verrebbe voglia di addentarla e mangiarlo buonissima ragazze quindi non vedo l'ora di provarla e speriamo che faccia tanto profumo come la fa appunto già da qua vi faccio vedere poi che mi hanno mandato grazie per averci scelto anna davide andrea ringrazio loro perché io non so con chi ho parlato su facebook nello specifico ma questo store è davvero molto sono davvero molto disponibili avevo sbagliato il colore del fondotinta della star system l'ho comunicato ovviamente subito dopo aver fatto l'ordine mi sono resa conto che il night il light neo cial poteva essere un po troppo rosato forse è un po troppo chiaro quindi ho chiesto se era possibile il light warm e appunto poi mi è arrivato il light warm sono stati davvero gentilissimi mi hanno anche assistito che avevo problemi con il momento del pagamento tramite carta sul sito comunque davvero sono stati troppo carini poi mi hanno mandato tre campioncini questo è proprio un campione che mi ha fatto tanto piacere ricevere perché è il tester il mar addosso mari tropicali ed è uno scrub volca questo scrub io l'ho giusto finito l'altro giorno questo scrub qui il profumo è qualcosa di tropicale di meraviglioso lo avevo giusto finito quindi adesso quest'altro pottino appunto che posso utilizzare infatti lo vado a mettere subito in doccia e poi ho anche appunto mi hanno anche mandato questi due campioncini di sezione aurea di cui non ho mai provato nulla ed è l'ara shampoo di vino effetto cheratina questi campioncini piccolini sono troppo troppo carini e sono da forse da 3 ml e poi quest'altro che invece è mina scrub viso di vino quando metterà a fuoco ecco qua quindi questi qua molto carini e poi ho avuto appunto dei campioncini il fondotinta sublime nella colorazione 03 io ho provato il fondotinta prima di appunto a andare a andare a provare la bb cream ho provato il fondotinta ma ragazze non mi piace troppo pastoso troppo denso ho provato tutti i tipi di applicazione tutti ragazzi vi giuro tutte ma non c'è stato verso in alcun modo di avere un effetto decente con questo fondotinta quindi questo campione tra l'altro io utilizzavo mi sembra lo 01 lo 02 ma mi credo lo 01 di questo fondotinta tra queste una colorazione troppo scura quindi andrò a inviare la mia sorella poi ho preso questa crema mi hanno mandato questa crema mani al ginger della yop credo si dica così questa marca al 98 per cento naturale poi ho preso questo qua che credo sia un contorno occhi perché si chiama sguardo divino tra l'altro c'è l'acido gli aluroni con l'eloid argana la centella la caffeina quindi sono proprio ingredienti che vanno per le rughe credo e si chiama elenia di sezione aurea poi ho questa qua che sono stata tanto contenta perché un campioncino mossa ed è della linea youth defense purity praticamente è una mousse lavante per tutti i tipi di pelle certificata eco cert con gli acidi della frutta poi mi hanno mandato questo shampoo per capelli ricci ai semi di lino questo io non ho i capelli ricci o i capelli appunto mossi però voglio comunque provarlo e infine il bazzamo leggero con proteine della quinoa di fitofilos credo sì fitofilos pura questo appunto è il video il tutto ciò che ho acquistato da mente rosmarino ragazze già siamo a 23 minuti mi sono dilungata troppo e stoppo il video e vi giro subito quello su gli acquisti che ho fatto da lande barrett perché se no viene troppo lungo e ci ho veramente 12 prodotti dottor organic più altre cosine quindi vi saluto per questo video e ci vediamo alla prossima ciao